Salve, benvenuti a Villalago. Sono il sindaco di Villalago, Fernando Gatta, e mi fa piacere ospitarvi nel nostro paese. Villalago si articola nella parte più importante nel suo centro storico. Il centro storico di Villalago è stato fondato intorno all'anno 1000 da San Domenico Abate e si sviluppa sul monte Argoneta che si affaccia a picco sulla valle del Sagittario. Grazie a tutti. Grazie a tutti.